Ora, un bravo scritto da Mr. Blessing Maga e il Carla di una faccenda qua che stiamo tutti qui in una grande media, we are family, e loro l'hanno dimostrato a noi perché veramente, nonostante le distanze a questa e le differenze culturali, siamo tutti via e uguali, finissime, finissime, questo è il bello della comunità. We are family! We are family! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.